Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altro video a tema FIFA 22, infatti manca sempre meno, ci stiamo avvicinando all'uscita del gioco che vuoi o non vuoi alla fine tanto aspettiamo, ma secondo me qualcuno sta ignorando o non conosce questo piccolo escamotaggio per poter mettere le mani su FIFA 22 prima dell'uscita del gioco e senza aver prenotato la versione Ultimate. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere passerei subito sulla schermatina che appunto ci mostra questo metodo. Infatti nei video in cui vi avevo spiegato come prenotare il gioco eccetera eccetera vi avevo spiegato che era possibile prenotare la versione Ultimate che costava un po' in più ma ci dava la possibilità di giocare a FIFA 22 dal 27 ottobre. Questo però, come vi dicevo in precedenza, non è l'unica maniera di poter utilizzare FIFA 22 prima della sua effettiva uscita perché esiste un abbonamento che si chiama EA Play. Questo abbonamento che costa 3,99€ ci dà esattamente la possibilità di poter provare non solo questo titolo di casa EA ma anche altri prima della loro effettiva uscita per un periodo di prova. Periodo di prova che per quanto riguarda FIFA e ovviamente in particolare FIFA 22 va sempre a essere di 10 ore. Quest'anno però hanno introdotto la possibilità di poter provare il gioco per 10 ore sia su quella che è la versione PS5 sia su quella che è la versione PS4. Quindi per un totale di 20 ore sempre allo stesso prezzo. L'abbonamento costa esattamente 3,99€ e deve essere ovviamente attivo nel momento in cui appunto viene rilasciata la versione di prova. Versione di prova che è schedulata per il 22 settembre e il timer delle 10 ore parte nel momento in cui voi lanciate l'applicazione. Quindi non avete 10 ore di gioco, 10 ore di partita, 10 ore di spacchettamento. No, nel momento in cui voi avviate l'applicazione inizia a scalare minuti dal vostro countdown. Difatti state molto bene attenti a quanto tempo effettivamente avete utilizzato perché anche al sottoscritto è capitato che nel bel mezzo di una partita boom! Mi sono ritrovato sbattuto fuori con un bel messaggio a carattere cubitali, hai terminato le ore. Quindi occhio, occhio soprattutto a non sprecare il tempo perché 10 ore sono preziose. Quindi il mio consiglio principale è quello di concentrare l'esperienza di gioco. Quindi provate a fare qualche partita, non perdete troppo tempo magari a fare sbissi inutili, non perdete troppo tempo ad aprire qualche pacchetto. Per quello c'è sempre la web app, tra l'altro per quanto riguarda la web app e consigli in generale su cosa fare all'inizio, arriverà settimana prossima una serie in compagna di John Fondatore che sono sicuro che vi tornerà molto molto utile. Quindi ocio perché la registreremo stile podcast e sarà sicuramente top, già lo so. Ho preparato anche delle grafichine epiche. Quindi occhio a non sprecare tempo sulla versione di prova delle 10 ore, perché è vero che quest'anno si hanno anche 10 ore sulla versione PS4, però a livello di gameplay sono diverse, magari potreste giusto spacchettare, fare qualche sbc, ma ripeto, la web app torna molto molto più comoda per queste cose, molto più immediata, vi permette di poter risparmiare del tempo. Però veniamo al nocciolo della questione. Come si va a sottoscrivere l'abbonamento a EA Play? Vi basterà accedere a quello che è il PlayStation Store o al Microsoft Store, se siete da Xbox, andare appunto in quella che è la barra di ricerca e cercare EA Play, che ovviamente è di tendenza perché questo è il periodo clou in cui tutti quanti cercano di andare a fare l'abbonamento, che come vedete costa 3,99€. È possibile sottoscriverlo attraverso PayPal, una prepagata, una Postepay, se non erro, anche tramite ricarica portafoglio, quindi è molto comoda come cosa. E nel momento in cui voi andate a sottoscrivere l'abbonamento, questo abbonamento prevede il rinnovo automatico. Quindi una cosa fondamentale che dovete andare a fare, se non siete più interessati a tutti quelli che sono i benefici di EA Play, che non finiscono qui e ve li vado a spiegare a breve, dovete fare la disattivazione del rinnovo automatico. Come fare la disattivazione del rinnovo automatico? Molto semplice, sia che siate su Xbox o che siate su PlayStation, potete farlo anche direttamente da console. Vi basterà andare su quello che è il vostro, sul vostro impostazioni, dove avete la voce utenti account, andate su pagamento e abbonamenti, andate su abbonamenti, come potete vedere io ho il Plus e proprio iiPlay, e andate a cliccare su disattiva il rinnovo automatico. E direte, beh, allora lo facciamo tutti ovviamente, di andare a disattivare il rinnovo automatico, però secondo me non è così banale, perché io lo lascio attivo tutto l'anno, e non sono scemo che lascio l'IA Play attivo tutto l'anno, ma vi dà la possibilità di ottenere degli sconti anche all'interno del gioco, come è stato in passato FIFA 21, FIFA 20, FIFA 19, eccetera, eccetera, vi dà la possibilità di avere degli sconti sui FIFA Points quando li andate ad acquistare, quindi secondo me è una cosa abbastanza vantaggiosa tenerlo, perché vi permette di poter risparmiare dei soldi, soprattutto se siete, insomma, addicted e durante l'anno sapete che shoppate, tenervi questo abbonamentino di 3,99€, che alla fine sono 40€ in un anno praticamente, perché poi magari a giugno ve lo disattivate e lo riattivate dopo, per me può tornare molto utile. Infatti adesso voglio entrare su FUT in maniera tale che vi faccio vedere dal mercato dei FIFA Points la voce proprio relativa alla scontistica, vi fa vedere quelli che sono i prezzi, diciamo, canonici, e poi vi fa vedere anche quelli che sono i prezzi scontati. Intanto quasi il precampionato che vi ho spiegato nel video per ottenere i bonus su FIFA 22, quindi voi se andate sul negozio e andate alla voce FIFA Points vedete che avete un piccolo sconto, quindi ad esempio il pacchetto da 99,99€ vi costerà 89,99€, quindi per me può avere senso tenere l'iplay attivo tutto l'anno. Un'altra cosa che dovete tenere bene a mente nel momento in cui andate a fare i Aplay e andare a giocare la versione di prova delle 10 ore è di non spaventarvi nel momento in cui non vedete che avete, non ricevete i bonus relativi ad esempio alla versione Ultimate, per cui 4600 FIFA Points, i One to Watch, tutte quelle cose lì, perché quelle sono previste per l'effettiva uscita del gioco, quindi le riceverete nel momento in cui se avete prenotato la versione Ultimate giocherete dal 27 o nel momento in cui entrate sul gioco il primo ottobre. Quelli lì quindi sono bonus per i quali dovrete aspettare la vera uscita del gioco, perché questa, vi ripeto, è una sorta di anteprima giusto per farci già assaggiare il gioco e soprattutto se qualcuno aveva dei FIFA Points su FIFA 21 li farà trasferire su FIFA 22, quindi potete portarli sulla web app e spacchettare come dei caini maiali. Quindi raga, per quanto riguarda questo video è tutto, spero che sia stato il più chiaro possibile, se avete ulteriori dubbi, perplessità eccetera eccetera, vi ricordo che ci sono i commenti, lo so che state guardando la maglietta che è epica e so anche che avete visto che in descrizione c'è il mio codice sconto di Pampling dove l'ho presa, è devastante, quindi passateci. Trovate anche il link per le live giornaliere sulla piattaforma Viola, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata raga, un salutone e un abbraccione al vostro Liberoschi, ciao!